In una sola operazione, durata da maggio a novembre, la Guardia Civil Spagnola ha sequestrato più di 372.000 piante di marijuana. Si tratta di un terzo di quanto solitamente viene sequestrato in 12 mesi. Finiti in manette tre presunti organizzatori del traffico, tutti spagnoli, che avevano preso in affitto 52 terreni agricoli attorno a Madrid e in altre zone del centro-sud della Spagna, ufficialmente per coltivare piante officinali. Secondo Europol, la marijuana, nonostante il regime di proibizionismo, è la sostanza stupefacente più diffusa in Europa, con 25 milioni di consumatori e un volume d'affari di oltre 11 miliardi di euro.